La settimana prossima sarà la settimana europea della biotecnologia. Quattro continenti coinvolti e l'Italia ancora una volta in prima linea con più di 90 eventi da nord a sud per portare la biotecnologia ai non addetti ai lavori. Una tecnologia che certamente vuol dire futuro, ma che è già presente con il suo portato di innovazione, ma anche con la sua proposta di motore per il paese, un motore sia per l'occupazione sia per l'economia, ma un motore a basse emissioni, un motore che possa garantire un futuro migliore in termini di ambiente, di salute, di sicurezza per la popolazione. Il programma di tutti questi eventi non ve lo racconto io, ma lo trovate sul sito di Assobiotech.it che vi invitiamo ad andare a guardare per scegliere l'evento più vicino a voi e che può interessarvi di più invitandovi a partecipare alla settimana europea delle biotecnologie.